Ciao a voi ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono Tee ed oggi siamo su Five Nights at Fuckboys 4 Questo non è un sequel originale Però è fatto da un fan di Five Nights at Fuckboys Quindi andiamo new game ragazzi Vediamo di che cosa si tratta Warning This game may be harmful from those who suffer From epi 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 Che figata di voce è Small soda Small soda Small pizza Small pizza It is a table It is not like I am trying to hide a dark secret about it Vabbè ne la salviamo Cos'è music room Che cavolo Ah qua si può ascoltare la musica che c'è nel gioco Interessante ragazzi Cos'è questo Fuck Okay Allora Interessante Ragazzi Ragazzi Su di stregge sicuro Sapevo Cos'è Items weapons No Vedo Extra party members No Li posso comprare Ok 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 Allora Items Ok qua abbiamo i soliti Bom 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 Perfetto Andiamo qua Small pizza E small soda Ok Quella è una telecamera credo Per cui non dobbiamo troppo preoccuparci di quella roba Andiamo a vedere il quadro Molto velocemente Forse Forse Oh le ragazzi Ecco qui Ehi no Che storie erano quella foto ragazzi Ah già la foto Niente Andiamo qua Vediamo un attimo Mi devo avvicinare Perché non vedo assolutamente nulla Ed ecco qua Allora Qui abbiamo una sedia Che non funziona Un piano Che Ecco qua Ecco qua Allora qua ci sono delle scale E andiamo C'è una telecamera C'è una telecamera Io qua vorrei salvare Sei Sei Buono Andiamo qua What the fuck Bon qui non c'è niente Per adesso Per adesso Niente Ah i mini freddy's Sono qua Chi è Allora andiamo qua Niente What the fuck Is What the fuck No Allora Qua c'è un mini freddy Vada The freddy's The freddy's Joined your party Ragazzi Eccoli qua Sono tre Ah i lì che belli Freddole Uno Due Tre Tutti hanno vite diverse Però Allora andiamo via Adesso chiamiamo i freddy's Aspetta Sei Dobbiamo vedere Get the fuck away from me Dick screwing ass cock bear Ha 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 Too fucking bad Fuck off Fazz fuck Bom Allora passiamo Oltre sprint A po' plastra A po' robe varie Ehm She's dead Porca miseria Ok Fantastico Ehm Bon Quindi qua niente Dobbiamo trovare Nightmare Bonnie E Nightmare Chica Ancora Allora Vediamo qua She can't see Get the fuck away from me I can hear and smell you Shinkia's breath I'm a bit emotional right now Scusate ragazzi Se non posso tradurvi Le robe Però Questa è la vita He's dead Ok Allora Ehm Siamo stati praticamente ovunque Per cui andiamo qua A Nightmare Bonnie ragazzi Qua Freddy My fucking guitar is gone Nobody gives two shits Ah ok Ciao Un computer Oh Interessante Classica guitarra Ma che storie What Engage the laptop Ma perché Abbiamo trovato la chitarra Nightmare Freddy Give Bonnie Ok C'è ragazzi C'è anche Nightmare Bonnie Adesso Tra i nostri amiconi Dove che siamo Ah qua sopra Vabbè Ehm Questa è la cucina Ok Vabbè Andiamo qua Uh Strano Molto strano What the fuck Ma che cavolo Qua ci voglio andare dopo ragazzi Prima dobbiamo Stare in casa Per riuscire a prendere Tutti quanti Butt Prima Per riuscire a «bam» Ehm L'ha Okay La La Ba Allora, vediamo se c'è qualcosa qua intorno alla casa No, non c'è niente Però questo c'è Ah no, è solo un bat Niente, entriamo in casa allora Kitchen exit Ci serve ancora Nightmare Chica Che non so dove sia Però qua c'è un regalo Niente Allora, andiamo qua Oh What the fuck is this? What the fuck is this? What the fuck is this? E basta No Eccola qua Shut up Allora Ecco qua Allora andiamo qua God in the secret room Ah, non vedo niente Anzi, vedo qualcosa È bugata la secret room ragazzi Si può andare attraverso i muri It's an arcade game Five Nights at Fuckboy Squad Do you want to play it? Aspetta Che non mi chiuda il gioco ragazzi Do you want to play? No No Ah no, boh, siamo tutti qua Ok Ehm Boh, allora Andiamo qua giù Non si può andare qua giù Missing audio I'm going to pass the fuck out of this door until it opens Uhuh Eh, what the fuck was this? Eh, what the fuck was this? Molto meglio ragazzi Allora Ok Ma dai Goddamuk Ah bom Classic guitar Ho trovato Quindi Se io equipaggio la classic guitar Ah boh Eccola qua Perpetta Prima aveva una classic guitar Ah bom 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 Salvatto Adesso ragazzi dobbiamo andare contro questo berretto Quindi let's go Vai Perfetto Dato lo freddo è livello 6 Bom bom No 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 Qua bisogna capire bene ragazzi Would you like to buy my Allora Abbiamo anche parts No perché io posso comprarlo anche da qua No da qua Che eravamo qua Ok solo che mi serve trovare un altro berrettino molto velocemente Ah già engage laptop motherfucker Vediamo cos'è Aspetta No non abbiamo robe per la vita Allora vediamo un attimo se riesco a fare qualcosa What the fuck is this on here Cos'è Allora ragazzi eccoci qui Sono tutti a livello 20 Nightmare Freddy I tre freddols E anche Nightmare Bonnie E Credo di aver capito dove Chica Che è qui dentro Nel bagno ovviamente Allora vediamo cos'ha da dirci E lei Devour my hotbird ass Freddy Devour my hotbird ass Freddy Vabbè Nightmare Chica Join the party E a livello 1 però Però Ecco qua ragazzi 335 di attacco E 203 di difesa Subito Mi ero preparato nel caso in cui Arrivasse Nightmare Chica Nel nostro party E avevo già preso tutti gli oggetti Che Che servivano Vediamo come va la prima battaglia Onesto ragazzi Non l'ho neanche attaccato Allora ragazzi Ho trovato Una tenda Per Foxy Come in Finance Freddy's 3 In Finance Fuckboys 3 Scusatemi Quindi adesso gliela daremo Maledetto Cioè Foxy Impazzito Nightmare Foxy Joined Adesso Parts Sempre a livello 1 Olè E adesso è al massimo Allora ragazzi Una rottetta Ho trovato anche il radar Per le videocassette Quindi Quindi Ecco ve lo ricordate Sì è Tupac Inoltre ragazzi Qua è spawnato Fredbear Allora ragazzi Manca un turno E sconfiggeremo L'ultima telecamera Vedremo che cosa accadrà dopo Allora vediamo Flashlight attacks Ok Eccoci qua Vediamo Ce l'abbiamo fatta ragazzi Non serviva Usare una fast pass combo Però io l'ho usata ugualmente Ok Large pizza Large pizza Adesso Fuck yes I'm shitting on all of the flashlights Time for the trifecta of the gods Sex, drugs And that amazing sound That I make When I twist Foxy's head In the morning Ma che cavolo When I twist Foxy's head In the morning Perchè? È passato così tanto tempo Dovevamo incontrarci al concerto di Tupac Oh Ti ucciderò Vabbè Vediamo cosa vuole Fredbear Fredbear Emerged Fredbear Emerged Allora Get good Ladies and gentlemen Welcome to a different show So l'abbiamo fatta Freddy party was victorious What the fuck It was going to be shitty anyway All the flashlights Dicks Fredbear E joined At the party Qua Anche se noi abbiamo già sconfitto Tutte le telecam Eh Le flashlights Allora Status Fredbear È a livello 10 Silver Large Non è al massimo E può anche arrivare A livello 20 Salviamo Intanto Allora ragazzi Adesso dovremmo A configgere Tupac Snoop Dog E la tipa Però Non sono riuscito A prendere Springtrap Plushtrap Nel Nel party Per ora Quindi andiamo Adesso abbiamo sia Fredbear Che Foxy Che sono più utili Bon Questo l'avevamo già letto Allora ragazzi Siamo pronti Ce la dobbiamo fare Perché Se no Non possiamo più farcela I am ready To ascend What the fuck C'è una mosca 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 Grazie a tutti. 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 Siamo riusciti a sconfiggere, ragazzi, la ex di Freddy e insieme a Tupac e Snoop Dogg. Grazie a tutti. Vediamo. Ragazzi, sapete che io, ragazzi, sapete che io in questi giochi ormai sono un pro, quindi vediamo qual è la... mi dicono. tanti qua. No, 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 taglia. Dove stiamo andando? C'è qualcuno ragazzi Voglio I killed them Li ho uccisi Li ho uccisi tutti Sono la causa di tutto E adesso? Uff Li ucciderò Uff Chi è? Purple guy emerged Ma stiamo scherzando Non ero pronto per una Battaglia col purple guy Il A A A A Grazie a tutti. 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 Allora, dopo aver sconfitto il Purple Guy, possiamo finalmente sconfiggere Balloon Bob. Però, dopo aver sconfitto questi Pipistrelli, dovremo fare un attimo una cosa un po' più importante. Eccoci qua, was victorious, allora andiamo qua. Non ho salvato dopo aver sconfitto il Purple Guy, ragazzi. Dov'è che ho salvato l'ultima volta? Prima del Purple Guy, vabbè. Facciamo finta che l'abbiamo sconfitto, ragazzi. Perché io non ho voglia di rifarmelo. Allora, ragazzi, questo era Five Nights at Fuckboys 4 Fun Made. Spero che vi sia piaciuto e non si può finire il gioco. Noi ci vedremo nel prossimo video. Noi ci vedremo nel prossimo video. Ciao. 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 Ciao.